Io vado, eh? Allora, signori e signori, farò vedere un bar, ma non è un bar, è molto originale, molto, molto originale. Un bar-museo, un museo-bar. E qui, a Ruo di Puglia, la città di Domenico Cantatore, la città dove c'è il museo Iatta, la città dove è nato Cotugno, il grande professore, dottore. Come sei bello, Tommaso, ti voglio bene. Bello come la scimmia sono. Arcobaleno, Michele sta nel suo arcobaleno. Fa poco Natale. Fa poco, è Natale, non tengo denaro, mi leggo il giornale e mi vado a curcare. Questo è un manifesto, Ruo di Puglia, il museo archeologico nazionale Iatta, che ci sono delle cose straordinarie. Allora, adesso entriamo il signor Vincenzo, grande amico, poco fa l'ho trattato un po' male, perché sto rotto di... A me è già passato. Posso entrare? L'hai acceso? Posso entrare? Perfetto, che ora lo accende. Ci troviamo nel bar Arcobaleno di Michele, ma questo è un bar, museo, un museo bar. Ci sono miliardi di reperti. Qui vicino c'è il museo Iatta, ma Michele, con questo bar-museo straordinario, fa concorrenza al museo Iatta, dove ci sono reperti di 2.500 anni fa. Bravo, bravo, bravo. Fai luce, sì. Bravo, fai luce. Quello sei tu. Sei un grande. Signori, signori, questo è un bar. Sì, è un bar. Santa Lucia. A fianco c'è il Buddha. Madonna, mezza. Metto la salsa, questo bambino con il bambino. Chiesi se me lo è. Qui questi sono... Illumina, sì. Foto degli anni venti, quando la donna era donna. Aveva un profumo particolare. E la bambolina... E c'è anche il bancone, dove Michele serve. Che te lo sai io detto, c'è un bambino? Eh sì, vai, vai. Eh, mi prepari uno... Un caffè d'orzo, in tazza... Solo orzo, in tazza grande. Michele, Michele... Qualcosa di... Ciao a tutti. D'incredibile. Vai... Anche la musta, legista. Sì, sì, sì. Beh, la bra... si sente, sì. Anche la musta, legista. Sì, sì. E ci sono tutte le banconote del mondo. Repubblica Filipinas. 100 pesos oro. Questo è un quadretto... Questo è un quadretto... formato dalle sante benedette dieci lire... dove c'era la spiga di grano. Sì, sì, sì. No, a lui, a lui deve illuminare. Ma questo signore vuole servire il caffè invece di ballare. Ma lui ama il ballo, ama la vita, ama la gioia di vivere. Fa niente che c'è il crack delle borse. Fa niente che c'è l'euro. Sì, ce ne andiamo in Thailandia, a Puké, a Pattaya, dove stanno le donne vere. E' facile dire ti amo a uno sconosciuto che dire addio alla persona che ami. Michele. Michele. Qui è una foto di quando andava a scuola. Vedi, c'è la freccia. Quello sei tu, no? Sì. Qui c'è l'angioletto. Qui c'è un pezzo di mimosa. Ma che c'è qui dentro qua? C'è tutto. Facciamo il pasticcio. Domani, domani, viene a prendere il nostro presidente. Qual è? Vieni. Ho fatto anche il comico. Hai fatto anche il comico. Ma questo lo mando pure a Mediaset. Vedi. Qui è Michele. Ma come è peloso Michele qua. Sembra un scimpanzè. Tommaso, vieni a vedere il pezzo. Guarda, guarda dove sta il nostro presidente. Là, là. Quello è fotografico. Ah, questa qua. Lo dirige chi è. Chi è quello, Michele? Il presidente della Repubblica. Siete voi, Vincenzo? No? No. Un amico a colloquio con il presidente della Repubblica. Ciao. Guarda queste belle ragazze in mezzo a... Come si chiama questa pianta qua? Che poi è questo, guarda. Lezione di bonton dell'ulti di grado. Sì, è il mio figlio. Sto ballando. Qui balla Michele con la sua figlia. Tommaso, vieni a vedere qua. Ti riferisci a... Allora, chiudiamo allora, eh. Un caffè. Grazie, Michele, per la tua gioia di vivere. E anche per il caffè che prepari, perché lui fa anche il caffè. Questo è un bar-museo o museo-bar.